Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Grazie a tutti. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Questa è solo una breve anteprima, tutto è pronto, riduce da... Vi aspettiamo in questa notte di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Vi aspettiamo sì, perché quasi sempre, non sempre, la felicità è nell'attesa, tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Tutto è pronto, Chiara, Chiara Nicoletti, quanti film sono usciti ieri nelle nostre sale? Ne sono usciti nove. Lei ne ha visti? Sette, ho studiato. Ha visto, è tornata Anselma Dell'Olio. Sono felicissima. Tra di noi, dopo il successo della festa del cinema, Anselma è andata. Allora, tutto è pronto, la sigla, tra un attimo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. E cominciamo proprio con Comandante. Sentiamo subito il regista Edoardo De Angelis e Pierfrancesco Favino. Eccoli. La nostra trincea non si vede, è il nemico, è lontano, protetto da strati di acqua e d'acciaio, ma sta là col cuore che gli pulsa. Professor Scambia, chiudiamo davvero, è notte fonda. Lei mette al mondo, fa nascere tanti, tanti bambini ogni giorno, in qualsiasi ora del giorno. Ma la vita è sempre più bella di un bel film o no? Professor Scambia. Beh, la vita è bella, è bella ed è bello quando il cinema te la sa anche rappresentare. Comunque il fatto di ogni giorno di far nascere dei bambini o di salvare delle vite o di stare in una sala operatoria a fare un lavoro che aiuta la vita è sicuramente una grande soddisfazione. Vederlo poi rappresentato nel cinema, in alcuni casi questo ti gratifica ulteriormente e ti fa capire come poi c'è una unificazione su un intento che è quello poi di salvare delle vite. Grazie, grazie davvero a tutti, sempre di venerdì, sempre di notte, sempre su Rai 1. Cinematografo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Il cinema è sogno. Grazie a tutti. 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 il cinema sogno cinema cultura vicino e libertà il cinema sogno cinema cultura il cinema libertà l'escriviti al canale 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 Grazie a tutti. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo. I film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Buonanotte cari amici. Buonanotte cari amici. Buonanotte cari amici. Buonanotte cari amici. Il cinema è un sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è un sogno, il cinema è un sogno. Il cinema è un sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grazie, grazie davvero a tutti. Cinematografo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. La notte di Rai 1 continua e purtroppo dovremo vedere ancora immagini che non avremmo mai voluto vedere. Le immagini che ci manderà sicuramente Rai News che arrivano dall'Ucraina. Buonanotte. Il cinema è un sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è un sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Speciale cinematografo, Festa Festival di Roma numero 17. Ecco la sigla. Il cinema è un sogno, il cinema è un sogno, il cinema è un sogno. Grazie a tutti. 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 Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grazie a tutti. Il cinema è sogno. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. 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 Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è adulta. Grazie a tutti. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è originario perpetratto, il cinema è una cosa più gentil. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. . . . . . . . . . Grazie a tutti. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Cinematografo. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno, il cinema è sogno. Il cinema è sogno, il cinema è sogno, il cinema è sogno. Grazie a tutti. 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 Cinematografo. grazie a tutti. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la serie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cinema è cultura, il cinema è libertà. Vi aspettiamo sì, perché quasi sempre, non sempre, la felicità è nell'attesa, tra poco. Buonanotte cari amici, direi uno cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. E tutto è pronto. Chiara, Chiara Nicoletti, quanti film sono usciti ieri nelle nostre sale? Ne sono usciti nove. Lei ne ha visti? Sette, ho studiato. Ha visto, è tornata Anselma dell'Olio. Sono felicità. Allora, tutto è pronto, la sigla, tra un attimo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la sigla. E cominciamo proprio con Comandante. Presentiamo subito il regista Edoardo De Angelis e Pierfrancesco Favino. Eccoli. La nostra trincea non si vede. È il nemico, è lontano. Protetto da strati di acqua ed acciaio. Ma sta là col cuore che gli impulsa. Proprio come... Con lo scambio, ti diamo davvero, è notte fonda. Lei mette al mondo, fa nascere tanti, tanti bambini ogni giorno, in qualsiasi ora del giorno. Ma la vita è sempre più bella di un bel film o no? Professor Scambio. Beh, la vita è bella, è bella ed è bello quando il cinema te la sa anche rappresentare. Comunque, il fatto di ogni giorno di far nascere dei bambini o di salvare delle vite o di stare in una sala operatoria a fare un lavoro che aiuta la vita è sicuramente una grande soddisfazione. Vederlo poi rappresentato nel cinema, in alcuni casi questo ti gratifica ulteriormente e ti fa capire come poi c'è una unificazione sull'intento che è quello poi di salvare delle vite. Grazie, grazie davvero a tutti. Sempre di venerdì, sempre di notte, sempre su Rai 1. Cinematografo. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la serie. Il cinema è turiste del cinema. Grazie a tutti. 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 Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Ecco la serie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grazie a tutti. Il cinema è il sogno. Il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è il sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è il sogno, il cinema è un sogno, il film, il cinema è libero e il sogno, il cinema è un sogno, il cinema è un sogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grazie a tutti. 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 Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è sogno. Buonanotte. Grazie a tutti. 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 a tutti.